A distanza di circa un mese si ritorna a recitare preghiere prima delle gare di calcio in Italia, per ricordare l'ennesimo caduto in Afghanistan, questa volta il minuto di raccoglimento prima del derby salinitana paganese era per il capolammaggiore Luca Sanna. Temperature polare in campo e sugli spalti la curva nord della paganese presidiava all'esterno quella ospite ed esolatamente vuota e neanche i due possessori di biglietto e di test del tifoso giungono a Pagani. Mega spiegamento di forze dell'ordine con tanto di elicottero ma tutto fila liscio. Salinitana che giunge invece a Pagani scortata dal solo DS Salerno e dal responsabile dell'ufficio marketing assente i quadri generali della società. Subito un giallo dal ventre del torre alla lettura delle formazioni, tra i pali c'è l'ultimo arrivato Caglioni, neanche in panchina il portiere paganese Giuliano dato per titolare alla Virgilia, in tribuna invece per malessere secondo Breda come gli altri ex tricarico illegittimo. La paganese invece si schiera con subito in attacco l'ultimo arrivato Ferraro mentre fuori radi e triarico per l'inserimento dell'89 di Pasquale. La gara al decimo subito paganese a farsi viva dalle parti dell'ex portiere della propatria, diagonale di Ferraro blocca a terra Caglioni. Vendisesimo, la manovra è tutta di marca paganese e in aria c'è un contrasto tra Pippa e Ferraro, dubbio il contatto, l'arbitro Fabri di Ravenna fa continuare. Ancora paganese con Vici Domini in cattedra alla mezz'ora, dal limite la palla però è fuori. La mira è migliore al 39esimo nel forcing della formazione azzurro stellata, Vici Domini, il suo diagonale si allunga come può Caglioni e devia in angolo. Un Gatti in splendida giornata con aperture a destra e a sinistra, il Lepore che è davvero una freccia nel fianco della difesa della Serenitana, riescono a brigliare la formazione Granata. Al 44esimo di Pasquale, cross dal fondo, Ferraro incorna, respinge alla grande Caglioni, raccoglie ancora Tortori il suo rasoterra sul primo palo, trova ancora la risposta del superportiere Granata in giornata di Grazia. Non finisce qui però l'arrembaggio della Paganese sul fischio finale del primo tempo. Al 46esimo ancora l'ex di turno, Ferraro in aria a tentare il rasoterra di poco fuori. Finale di primo tempo d'uno con la Paganese che esce tra gli applausi una sola squadra in campo ed una piccola piccola salernitana. La ripresa si apre sulla stessa lunghezza d'onda. Al quinto minuto Paganese è vicinissimo a gol con l'indemnonato Lepore che tra due avversari si inserisce, tocca il pallone a cucchiaio e il palo, rispinge, raccoglie Di Pasquale ma sulla linea si immola, murolo ed evita la capitolazione. Al 23esimo la prima conclusione verso Ginestra porta la firma di Montalto e Tiro e al lato sul suggerimento di Ragusa. Una Paganese che cala in questa fase centrale della ripresa, ne esce fuori la sernitana ma senza convinzione. Al 33esimo ancora un tiro dal limite di radi, deviazione di Ferraro. blocca Caglioni a 41esimo in Montalto, lanciato a rete in contropiede, viene contrastato in spaccata da Fusco sul pallone. Ma l'albitro, il signor Fabri di Ravenne, decide per espulsione. Rosso da ultimo uomo, proteste a non finire in campo, ne fa le spese anche Capuano. L'ultima occasione è di marca Granata al 42esimo con un tiro di Carrus e attento, blocca a terra Ginestra. Termina 0-0 dunque il derby tra Serenitana e Paganese, il 14esimo della storia, che dice che la Paganese è ancora viva per lottare per la salvezza. La Serenitana è sicuramente rimandata a giornate migliori. La Serenitana è sicuramente rimandata a giornate migliori.